ciao ragazzi nineggio torna come sapete in alcuni video ci sarà la mia faccia registrata con un gopro in alcuni no in questo no perché è veloce c'è con me giuseppe di là come da promesso lanciati da perduta come promesso si torna a giocare un po com'è questo gioco il canale vediamo ragazzi mai giocato un gioco di tour de france mai guardata la tour de france non è uno sport che mi sono appassionato tante non mi sono mai appassionato tante che succede lì c'è la prima volta non può essere siamo 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 to the fox temere lo tratto da sei chilometri non è un bel canale ok ragazzi io non potrei guidare non lo so non si non si dire no 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 Alla Queste tour de France Andiamo ad essere più stanco ragazzi Non sono tanto appassionato nei giochi di guida ragazzi Non sono tanto 174 impatti Sta morendo ragazzi Ma gli altri non ci sono? Ah forse prima ci sono i preliminari Bello si O c'è un aerodinamico Allora ragazzi così non c'è tanto da dire ragazzi È un gioco non ai massimi livelli È un gioco semplice Sono tanto appassionato Sono appassionato a questi giorni Già lo sapete Già ve l'ho detto Adesso con i ragazzi Anzi con Beppe Consiglio di cercare di fare Primo porteremo il torneio Della PS3 con FIFA 18 Food con PS3 Anzi chi mi vuole sfidare Con Food PS3 Mi cerca Non lo so Su Allora scrivetemi nei commenti Chi vuole giocare con me E poi faremo qualche partita insieme Lo spazio ai ragazzi che praticamente non possono Ragazzi non so che cavolo è successo Si è bloccato il gioco Ok ragazzi non è Allora ho capito che sto gioco non è grandier Io direi di staccare in questo video Noi ci vediamo tra un po' con Giuseppe Rimenete qui nel In questo Nel canale di Nel Perché tra un po' ci sarà Un gioco pazzesco Ci saranno tanti giochi Vi spoilerò che ci saranno Dei giochi pazzeschi Con il Con il Kinect Perciò ragazzi Allo prossimo video Bene ragazzi Ciao